E' rimasto schiacciato dal trattore mentre era impegnata a spegnere insieme ad altri agricoltori della zona un incendio divampato nelle campagne tra Bivone e Palazzo Adriano. Vittima del tragico incidente un diciottenne Giovanni Maurello di Lucca Sicula. Da una prima ricostruzione dei carabinieri la vittima aveva da poco terminato di agganciare una cisterna d'acqua al suo trattore. Forse per la forte pendenza del tratto di campagna e un possibile errore di manovra il mezzo agricolo si è ribaltato con il giovane che è rimasto schiacciato. Sono stati i compagni del ragazzo a dare l'allarme. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri delle stazioni di Lucca Sicula di Palazzo Adriano e un'ambulanza. Quando Giovanni Maurello è stato liberato respirava ancora. E' deceduto sul mezzo di soccorso prima dell'arrivo all'ospedale di Ribera. Vani sono risultati tentativi effettuati dai sanitari per cercare di rianimarlo. Troppo gravi le lesioni interne causate dallo schiacciamento. Sul terribile incidente la procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica dei fatti. Come primo passo il magistrato titolare del fascicolo ha disposto il sequestro della salma e del mezzo agricolo.